Non so come abbia fatto a fregare le autorità, ma l'ha fatto. L'ho vista con i miei occhi. Anche io. Credo di doverti delle scuse. Siamo identiche, da sempre. Stai bene? Sì, certo. Sto molto bene. Hai capito che tua sorella e tuo marito volevano ucciderti e ti senti bene? Beh, adesso capisco... capisco un mucchio di cose. Allora, quando andiamo alla polizia? Meglio di no. Purtroppo devo ammettere che Clayton Diker è un uomo molto apprezzato. I suoi amici del dipartimento crederanno più alla sua parola che alla nostra. L'ho scoperto nel modo peggiore. E allora che cosa dovrei fare? Aspettare fino a che... E fino a che non abbiamo una prova schiacciante. Vai in un albergo e io vedo che cosa posso fare. Carey? Diker? Sì, posso fare un doppio turno. Quando vuoi. Ok. 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 Ogni regola ha la sua eccezione. Chiedo scusa. Stavo per prendermi la serata libera, ma è successa una cosa eccezionale. Dicono che alle prostitute non piace il loro lavoro. Solo soldi, niente piacere. Ma... Ma ogni regola ha la sua eccezione. Sei un tipo svelto. Beh, non sempre. Non stare fermo lì. Vieni qui e dimostramelo. Mi dispiace deluderti, ma non sono qui per fare sesso. Sono un detective assunto da tua sorella. Io non ho sorelle. Si chiama Carrie Diker, sposata con un uomo di nome Clayton. Tu ti chiami? Se dici che il mio nome è Terry, ti strappo col tuo fottuto cuore. È proprio ciò che lei ha pensato avresti detto. A quanto pare mi conosce bene. Forse lei non è l'unica. Sa che sono tornata? Sì, lo sa. Chi altri? Nessuna. Le ho detto di tenerselo per sé. Perché lo hai fatto? Guadagno circa 30.000 dollari l'anno. Ho una ex moglie che si rifiuta di lavorare due figli vampiri in età scolare. Dedico tutto il mio tempo a questo lavoro per poter mantenere la famiglia. Ciao.